Eivor, ti sei risvegliato. Con altri ricordi, spero. Sono tornato ad Asgard. E che cosa hai visto? Legavo Fenrir, il lupo, figlio di Loki, con una corda indistruttibile. La bestia era furiosa per le mie azioni. Combattevamo e io vincevo, ma non potevo ucciderla. Parli di miti e leggende, storie che non credevo fossero reali, parabole che tu racconti come fossero ricordi. Ogni momento era vivido e tangibile, come quello che stiamo vivendo adesso. È incredibile. C'è dell'altro. Ricordo un tradimento. Io tradivo mio fratello Tyr. Restavo a guardare mentre il grande lupo lo dilaniava, strappandogli il braccio. Avrei potuto impedire l'accaduto, metterlo in guardia. Ma non facevo nulla. Come ti sentivi? Ero come insensibile al suo dolore e non mi rimproveravo quell'indifferenza. Come fosse un veleno che sapeva di vino. L'egoismo sfrenato lascia quella sensazione. Cos'altro hai visto? Le Norni mi concedevano un'ultima visione. La venuta del Ragnarok. Un caos di fuoco e fiamme, come un vento che spirava dall'abisso del Ginnungagap. Ma eravamo pronti alla tempesta. Otto di noi bevevano l'idromele, poi si volgevano ad affrontare la fine. Così, terminava la profezia delle Norni. Curioso, sì. Ricordi altro? Il resto è troppo confuso. Capisco. L'impulso di queste visioni mi sembra piuttosto chiaro. Già dalla prima volta provavi un grande timore di tradire. Odino ti ha fatto dono della sua infinita conoscenza e della sua inestimabile esperienza. Forse ti vuole mettere in guardia. Si è sentito misero per la sua indifferenza e vuole che tu eviti di fare altrettanto. Poiché rischieresti la solitudine, l'esilio interiore. Un fatto terribile. Lo spero. Grazie, Balca. Grazie.